Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, eccoci qui oggi su Raft, di sicuro avete già capito di che cosa si parla quindi è un survival in accesso anticipato, quindi andiamo subito con un nuovo mondo facciamo un facile, dunque nome del mondo, lo chiamiamo Tov91 gli amici possono unirsi, si, fuoco amico, password, vabbè crea mondo quindi si, va benissimo, va benissimo, d'accordo dunque, allora, vediamo un po' ragazzi di che cosa si tratta questo gioco perché innanzitutto ho già visto un po' di trailer, un po' di video su youtube per come potrebbe mai funzionare questo tipo di gioco come detto è in accesso anticipato, è un survival ed eccoci qua, ed eccoci qua dunque, dobbiamo raccattare tutta quanta sta roba qua per poterci fare, in me che non si dica, una zatteronza per cavoli nostri ecco la ben... naccia la miseria, naccia la miseria, dobbiamo raccattare quanta più roba possibile no, niente ok, dunque, allora, in basso a sinistra abbiamo cibo, acqua e salute perfetto raccatta, raccatta, il raccattabile ed ecco qua, perfetto dunque, abbiamo anche Sharky, il nostro mitico Sharkone che di sicuro lo conosciamo in tutti quanti perfetto, un po' di foglie un po' di erba che almeno così possiamo farci un po' di spinelli vieni qua tizio, sì mio signore dunque, i barili, da quello che ho capito mi sa che contengono una marea di robe all'interno sì, perché comunque sia dobbiamo craftarci quanta più roba possibile per poter raccattare ovvero, per poter andare avanti per poter sopravvivere eccetera eccetera ciao Sharky, come va, t'apposto? bene, perfetto Sharky, in pratica, è in posizione d'attacco vieni qua, foglume dai, 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 dai dai, prima che mi scappa via il contenitore volevo dire dunque, la plastica perfetto che, no, niente, plastica mannaccia, la miseria oh, via qua no, 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 no vai, vai così dai che ce la facciamo a raccattare no, niente non ce l'abbiamo fatta a raccattare quel cavolo di barilonzo eeeh, no, niente barilotto, barilotto, niente vieni qua, plastichina plastico accia la miseria e che cos'è? dai, dai, è così dai, è così no, niente ragazzi non scendiamo da sopra alla zatteronza perché sennò va a finire che ci moriamo malo malo da Sharky e vorrei bene evitarlo oddio, che bello ciao plastica vieni qua da papino legna vieni qua da papino ciao 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 vieni qua vieni qua dunque allora da quello che ho capito mi sa che qui il nostro arpione qui per catturare tutta quanta sta robina purtroppo si danneggia alla velocità della luce e dobbiamo costruire robe che bello sono veramente tanto creativo quest'oggi e a parte il fatto che comunque sia da quello che ho visto ci sta anche il modo per poter fare anche creativa e quant'altro vabbè questi ragazzi sono dettagli comunque sia adesso ci godiamo pieno carico sto gioco dunque allora ci abbiamo plastica legno foglie e plastica bene bene perfetto ottimo dai vieni qua mannaccia la miseria maledizione dai dai almeno tre cosine insieme se ma che niente oh niente di niente là sotto là ci sto un barilozzo ma ancora devi arrivarmi il barilozzo perfetto barilozzo barilozzo e barilozzo barilozzo vieni qua da papino no niente dunque allora tab per poterci craftare si se non mi sbaglio mi sa che si poteva fare anche il remo il remo per poter remare e insomma oh dio che bello no mannaccia la miseria mannaccia avevo quasi beccato il barilozzo barilozzo vieni qua da papino vieni qua da papino di oh che bello barilozzo beccato asse pietra asse e plastica va bene va bene va più che bene ragazzi e va più che bene dunque abbiamo già raccattato ovvero abbiamo già trovato un'isola laggiù che è molto meglio che niente molto meglio che niente ok perfetto dunque vieni qua perfetto altra plastica altro barilozzo là sotto no 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 vieni qua barilozzo vieni qua da papino vieni qua da papino oh lei perfetto ottimo eh corda foglia di palma asse e quant'altro perfetto un'altra foglia l'abbiamo già raccattata oh marone ragazzi abbiamo quest'iso anzi abbiamo questo mare fiume eh veramente tanto tanto inquinatello questo oggi eh e già vieni qua asse del capolus dunque allora vediamo un po' ci abbiamo bisogno di eh credo di un martello martello da costruzione asse e corda ci abbiamo bisogno di un paio di corde per poter fare il tutto eh dunque allora più materiale raccattiamo e più roba possiamo costruirci ragazzi eh e già più roba si pecca e più roba possiamo costruirci ci abbiamo trovato anche un po' di metallo però sto andando in conflitto con quella cavolo di isolotta eh sì secondo me ragazzi possiamo farci anche il ehm il remo per poter remare vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua perfetto ok eh dunque allora vediamo un po' com'è che si fa il remo il remo dovrebbe farsi con eccola qua vabbè la pagaia quindi a cavolo asse plastica e corda eh dunque ci abbiamo bisogno ancora di altre corde ma vabbè eh sì ok grazie tizio eh sì mio gentile signore eh cacchio però volevo attraccare su questa cavolo di 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 cosa qua oh oh che è sta roba qua che sta svolazzando qua oddio santissimo ragazzi quanta roba che ci abbiamo qua ci abbiamo veramente un sacco di roba eh già ma ci abbiamo veramente tanta tanta robina eh sì 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 dunque allora per la pagaia per la pagaia ci serve un po' di materiale in più eh vediamo un po' se riesco a raccattare sta plastica no niente 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 plastica vabbè 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 chissene vieni qua mannaccia la miseria oh attenzione panico prima che ci schiappa scappa da sopra sta cavolo di cosa minuscola qua e devo anche magnare perfetto ok benissimo shark è sempre in agguato tre di plastica ce ne abbiamo tre me ne servono me ne servono altre tre in pratica eh già 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 vieni qua barilozzo vieni qua barilozzo da papino perfetto eh che cosa ci abbiamo raccattato quattro di plastica va bene quindi più plastica becchiamo meglio sarà per noi almeno così vieni qua barilozzo vieni qua da papino sì che bello dunque cinque di plastica piglia anche questo ciao sharky eh come va da posto dunque allora vediamo un po' di raccattare altra plastica perché mi devo fare sta benedettissima pagaia annaccia la miseria quella plastica l'ho proprio saltata vieni qua da papino tu dove voglia dove vuoi andare e beh 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 no 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 tanto carino sto gioco dai ok oddio o maronne o maronne santissima com'è che si fa a ritornare a galla aiuto aiuto maronne hai panico paura in questo gioco dunque 5 di plastica però non mi posso ancora fare la pagaia ancora vela dunque allora per il cibo tazza vuota depuratore dell'acqua griglia semplice e vaso di coltivazione va bene va bene ok 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 ottimo perfetto dunque allora questo questo qua raccatta 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 tutto benissimo abbiamo 7 di plastica però se vado ad utilizzare adesso la plastica rimango in pratica assenza ok quindi plastica e foglie di palma benissimo perfetto salve signor sharkie come va a posto dunque allora posso farmi questa maledettissima pagaia 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 eccola qua quindi crea ok dunque posso remare anche con la pagaia perfetto almeno così mi raccatto molta molta più roba però vedo che in pratica si rompe alla velocità della leucea è già perfetto ok dunque dunque allora vediamo un po di remare fin quanto non si sfascia il tutto bene perfetto a raccata a raccata a raccata tutto raccata tutto raccata tutto ok va bene perfetto vieni qua da papino altre si di plastica va più che bene così ok va bene va bene ottimo vieni qua barilozza di papino vieni qua barilozza di papino ciao vecino sharkie come vatta posto vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua dove vai dove vuoi andarmi dove vuoi andarmi vai rima rima così rima 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 così rima cola vieni qua dove va annaccia le morte e che cos'è ma per far girare questa pagaia questa cosa qua com'è che ha così in pratica si si dovrebbe fare così bene perfetto raccata raccata tutto ok dunque allora vediamo un po di crearci il martello per fare robe insomma ecco lo posso pigliare lo posso mettere pure qua ok inventario va benissimo dunque allora ci allarghiamo un po da questa parte è ok mi devo fare un altro no vabbè per adesso no niente ancora però l'unica cosa che devo fare è devo anche raccattarmi un po di cibo perché vedo che in pratica sto quasi per morire di fame per l'appunto dunque ecco qua le altre assi di legno va benissimo ok vieni qua vieni qua vieni qua dove vai maledetto maledetto strunz vabbè perché comunque sia ragazzi io sapete che cos'è che volevo fare volevo in pratica ritornare indietro però non posso ritornare indietro dunque allora contenitore piccolo attrezzi gancio di plastica me ne faccio un altro per sicurezza e per sicurezza mi faccio un griglia semplice che ci vogliono corde bene perfetto dunque allora lasciamo robe dentro l'inventario ci abbiamo una patata una corda 4 di pietre una plastica e altre 10 di queste va benissimo ok va bene d'accordo quindi oh oh stanno calando benissimamente le tenebre e già e già 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 allora dunque prendiamo la pagaia e remiamo verso quei barilozzi vediamo un po ragazzi che cosa ci possiamo mai trovare in cui barilozzi perché si sta fa notte proprio come se non ci fosse un domani e già e vedere che fa notte così in fretta guardate proprio non ci voleva sta cosa e già 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 maronne santissima vieni qua ma che 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 è sto bagliore rosso ah è il sole dietro di noi oh oh bello 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 che bello ci abbiamo una isola là sotto ed è meglio che niente ciao signor sharky come vatta posto no aspettate remiamo anche verso quest'altro barilozzo vediamo un po che cosa ci troviamo salve signor barilozzo plastica cacchio mi servono un po di corde attracchiamo là vicino a quell'isola vediamo un po che cavolo è che ci troviamo se ci troviamo qualche cosa perché voglio fare in pratica ecco mi serve la griglia semplice mentre per depuratore dell'acqua lo possiamo fare quindi crea ok però il depuratore dell'acqua lo possiamo mettere per adesso qua eh metti le assi ok perfetto dunque eh da quello che ho capito mi sa che dobbiamo farci anche il bicchieronzo per poter bere acqua benissimo perfetto eh eh e chi me lo dovevo dire a me quest'oggi sta sta cosa qua tazza vuota ah cacchio ci serve plastica plastica ne abbiamo veramente tanto poca mmm la pagaia in pratica si sta quasi per per andare a farsi benedire benissimo perfetto ok eh dunque allora vediamo che cos'è che ci possiamo raccattare qua in giro eh sì qua in pratica ci stanno un paio di barilozzi ma vabbè ma vabbè non è quello il problema nascia la miseria ma nascia la miseria eh dunque pagaglia pagaglia vieni qua pagaglia rima 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 tutto rima rima in men che non si dica perché qua sto quasi per morire di sedato e anche di fame però vabbè comunque sia ci abbiamo raccattato anche una patata ma vabbè ma con le patate che cacchio è che ci volete fare con le patate no eh sì remiamo fino a quanto non si sfascia sto coso qua eh dai ecca la perfetto mannaccia la miseria mannaccia la miseria mannaccia la miseria mo mi ci devo fare un'altra pagaia in pratica eh già no 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 plastica 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 vieni da papino vieni da paponzo ok perfetto altre assi di legno che possono se ecca la bene ciao sharki eh da posto come va come va la vita dunque allora eh griglia semplice vaso aggancio eh lancia di legno corde ah le corde le posso sì le corde le posso anche craftare eh però da qua plastica mannaccia la miseria eh plastica e corde le corde le possiamo craftare con eh queste quindi crea crea oddio oddio sharki oddio sharki te posso pigliare martellate te posso pigliare martellate tacci tua tacci tu mannaccia la miseria mannaccia mi ha sfasciato tutto mi ha sfasciato tutto piglia il rim piglia il coso quel gancio di plastica qua butta tutto qua vai così ok perfetto altre assi di legno dai e dai e dai e da maccia la miseria non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta pigliarlo maledizione vieni qua tu vieni qua da papò ehm sì eh vabbè no dai ma che cos'è questa roba ma dai non è vero mai nella vita vieni qua barilozzo vieni qua barilozzo da papi no niente eh c'è li mortacci tua e che cos'è no dai ragazzi mi ci sono perso un bel po' di barilozzi un bel po' di barilozzi vieni qua barilozzo vieni qua barilozzo vieni qua da papino vieni qua da papino asse ora disponibile per la ricerca antenna benissimo perfetto quindi mi sa tanto che mi ci devo allargare un po' con la zatteronza se voglio fare in pratica oddio che cos'è che ci abbiamo trovato peraltro ci abbiamo trovato peraltro un po' di robine no che rimuovi rimuovi sto ceppos aspettate ma che è sta roba inventario che cos'è ah boh sapete che no lo saccio no lo saccio per niente io che roba sia sta cosa oddio vieni qua barilozzo vieni qua da papinos vieni qua vieni qua facci vostra maronne santissime come è inguinato questo mare o devono aver fatto una discarica proprio di quelle discariche o che ci hanno scagazzato dentro il mare o e che cos'è faccia voi mannaccia dunque se vado con la t a ok perfetto sì vabbè dopo questo qua lo vediamo ragazzi dopo lo vediamo dopo 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 lo vediamo vieni qua e vieni qua pure te vieni no vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua dove 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 sei vieni ah 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 aiuto ho paura dello squalo io ho paura di sharkis di sharki prima che mi faccia del male vieni qua vieni vieni qua dove vai vieni qua dove vai vieni qua barilonzo barilonzo del cazzo vabbè barilonzo va dai ma non è mai vero nella vita ma oddio che bello abbiamo raccattato una di queste che dovrebbe essere una barbabietola un'altra di queste benissimo perfetto dunque allora vediamo un po ragazzi di farci eh dove che era dove che ah scusate aspettate un attimo aspettate uno second prima che qua ci muoio di fame per davvero per davvero dunque allora la tazza me la posso creare dunque allora da quello che ho capito riempi eh metti tazza di acqua salata e accendimi il fuoco benissimo perfetto ottimo eh ok eh da quello che ho capito mi sa che eh dobbiamo farci in pratica il coso per poter eh dove chiome ah ok eh quindi questo qua in pratica si è sfasciato ma vabbè eh non è quel problema devo farmi un'altra cavolo di pagaia ok perfetto eh dunque dunque allora la pagaia non la posso ancora creare aggancio ancora monouso no per adesso no eh sì griglia semplice ok quindi questa griglia semplice buon uomo me la potrebbe mettere qui ok grazie metti le assi però mi ci raccatti tutta quanta sta plasticons ok eh dunque allora eh mi sa che le barbabietole le possiamo anche cucinare possiamo anche mangiare vieni qua tacci tua eh allora facciamo così se io metto a cucinare questa barbabietole oh che bello eh dunque allora eh no scusate eh com'è che si fa a bere eh riempi con a riempi con acqua dolce e quindi ah posso berla ok perfetto quindi riempi metti qua ok eh sì lui nel frattempo che fa robe io posso anche eh vedere di eh va bene di eh raccattare ancora altra plasticons altra roba perfetto eh vabbè i barili per adesso non sono un problema perché so tutti quanti in pratica là sotto eh metti le assi e ok no che rimuovi in pratica ragazzi devo mangiare eh oddio sì ci provo ma non è che ci vorrei proprio morire da sharkis sharkis mi raccomando fatti i cazzi tua non sta a rompere le perotas a me dunque allora riempi con acqua dolce e bevi perfetto ok riempi e riempi ok mangia sì mangia ti va barbabietola perfetto ok oddio barilonzo 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 vieni da me aiuto oddio sharki oddio sharki oddio sharki maledetto figlio di boot vai metti le assi qua sotto e non te sta preoccupare tizio però da quello che ho capito mi sa che ci possiamo craftare anche le reti le reti per poter raccattare molto più roba di ora sotto là ci sta qualche cosa benissimo perfetto dunque pagaia 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 mi serve plastica mi serve plastica no che cacchio ti bevi ti bevi l'acqua contaminata tizio mannaccia a te mannaccia persa liquido che cacchio fai piglia l'acqua dolce e bevi ok metti qua e va bene riempi con acqua no vabbè con acqua salata per adesso no ok perfetto mannaccia la miseria mannaccia la pagaia la pagaia mi serve plastica e corda per fare le corde oddio marone santissimo ragazzi è molto più complicato del previsto perfetto quindi creiamo le cordigine ok quindi nannaccia la miseria e più ciao sharki e come vatta posto vai piglia qua magna magna e ok perfetto e cacchio fatto ai devi vieni qua plasticonza perfetto bevi e riempi metti qua ok allora dunque ragazzi miei arrivati a questo punto io direi quasi quasi di completare qui questo primo appuntamento della serie di raft voi mi raccomando lasciate like commentate iscrivetevi attivate la campanellina condividete questo video per aiutare essere il canale a crescere e noi ci rivedremo in un prossimo video ciao ciao ragazzi